Commissario Capo D'Auria, come è stata articolata l'attività di controllo sul territorio giuliano nel mese di marzo? Nel mese di marzo abbiamo disposto, come quest'ora di Trieste, una serie di rafforzamenti delle attività di verifica delle licenze e degli avventuri dei bar cittadini, quindi nell'area centrale, riguardante soprattutto le piazze cittadini, che come il mese precedente sono luoghi in qualche modo di aggregazione, e di forte presenza di cittadini, quindi che necessita anche di un'attenzione da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri è stato arrestato un soggetto per delle rapine consumate nell'area di barriera. Come si è svolta l'operazione? Nel pomeriggio di ieri abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di un soggetto che con un coltello aveva minacciato delle vittime in strada. Immediatamente è stato attivato un dispositivo specifico e mirato all'individuazione del responsabile, che ha coinvolto equipaggi delle volanti, della squadra mobile e del commissariato di San Sabba. Questo dispositivo ha consentito, in tempi molto rapidi, di individuare l'autore, di arrestarlo e di metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'ultima domanda, ci avviciniamo al periodo pasquale. C'è in prisione qualche controllo in particolare? Sì, nel periodo pasquale intensificheremo la vigilanza, soprattutto nelle aree residenziali. Normalmente in questo periodo le abitazioni rimangono disabitate, quindi è più alto il pericolo di furti in appartamento. Garantiremo quindi una maggiore presenza. Chiediamo a tutti i cittadini di segnalare ogni evento anomalo, ogni soggetto che possa risultare sospetto, in modo da consentirci di fare un approfondimento e di verificare la situazione.